Giordano, Silvia. Primo ostacolo superato per il governo Gentiloni che passa senza problemi l'esame della Camera. 473, maggioranza 237, hanno votato sì, 368, hanno votato no, 105. La Camera approva. Ora in mattinata il passaggio in Senato. L'esecutivo che ha giurato lunedì al cospetto del presidente Sergio Mattarella è stato definito dal Premier un governo di responsabilità, garante delle istituzioni, che punta ad affrontare le emergenze italiane, lavoro, banche, riforma della legge elettorale, ma anche la ricostruzione post-terremoto, come ha ricordato anche il predecessore Matteo Renzi, dando a Paolo Gentiloni una felpa di amatrice ricevuta in regalo dal sindaco Sergio Pirozzi, per non dimenticare. Ci vedo a caso di un momento di possibilità.